Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare loro, con parabole ai capi dei sacerdoti e i farisei, e disse, il regno dei Cieli è simile a un re, che feci una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine, dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei bui e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono, e andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora Re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini, ed è dalle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi, la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di comensali. Il re entrò per vedere i comensali, e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse, amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ha muto lì. Allora Re ordinò ai servi, legatelo a mani e piedi, e gettatelo fuori nelle tenebre, la sala pianto e stritore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.